buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova giornata di formazione organizzata da studio sigaudo in collaborazione con il dottor marco sigaudo e il dottor andrea bufarale oggi si parlerà di riaccertamento dei residui ordinario anticipato e la gestione del fondo plurinale vincolato voglio ricordare a tutti i partecipanti che il corso sarà registrato pertanto se non desiderate comparire vi chiedo gentilmente di spegnere le videocamere e mantenere anche i microfoni disattivati qualora vogliate fare delle domande potete utilizzare la chat i due relatori si riserveranno gli ultimi dieci minuti un quarto d'ora del corso per rispondere ai vostri quesiti ricorda a tutti che la registrazione il materiale saranno disponibili sul nostro portale formazione tutopia tra due tre giorni lavorativi e sono disponibili solo per chi ha il pacchetto soluzione tutopia attivo lascio la parola al dottor marco sigaudo e auguro buon corso a tutti bene grazie Sara buongiorno e benvenuti oggi il dottor bufarale presenterà e andrà ad approfondire un argomento che è molto caldo in previsione soprattutto di quello che rendi conto ma in realtà vedremo anche nell'ottica delle pnrr parliamo di riaccertamento dei residui è importante innanzitutto andare a distinguere quelle che sono le tre fasi del riaccertamento volendo abbiamo la ricognizione poi abbiamo riaccertamento parziale e poi abbiamo il riaccertamento dei residui sono tre fasi separate con delle finalità distinte finalizzate a supportare quello che è l'organizzazione la buona gestione dell'ente vedremo come vengono svolte nel corso dell'esercizio dai vari soggetti responsabili molto importante il fatto che io dico e poi vedrete anche dottor bufarale lo citerà dei vari soggetti responsabili perché l'operazione di riaccertamento va a interessare tutte le diverse aree del comune per competenza all'interno della propria area operativa oltre a quello che è il trattamento dei residui parleremo anche di fondo plurianale vincolato grazie a tutti